Grazie a tutti coloro, grazie a tutti coloro i quali hanno contribuito anche quest'anno a questa stazione di questo evento che costituisce una tradizione nell'ambito di questa scuola e che ha un suo consolidamento di studenti e degli studenti che se ne occupano, spero molto, lo sviluppano nel senso del massimo di creatività che i ragazzi possono dare in questo ambito artistico musicale alla fine dell'anno, perché non sono vissuti i liceali, anche durando il corso. Quindi io ringrazio moltissimo i rappresentanti del Consiglio d'Istituto, i studenti che l'hanno realizzato, i vecchi allunghi, i vecchi, il nostro grande regista autorizzatore che è Ussi che ormai è l'anima di questa autorità, di quello di questa autorità, Valina che è nella sua cloud, ci vede dall'altro e tutti coloro di quali quest'anno è stato, è stato il Consiglio d'Istituto che non sto a ricordare e che si passano qui qua. Ringrazio anche tutti i ragazzi che hanno contribuito all'organizzazione oppure all'attività di quattro artisti con una professoressa Felici che è impegnata nelle classi e quindi i docenti di educazione Felici, la professoressa Medico, la professoressa Senarica che hanno seguito i due ragazzi. Spero di non avermi evitato nessuno e grazie ai normalisti che hanno voluto aiutarci a dare possibilità in inclusione con questa autorità e il bilancio tra i propri lavori di presentazione rimarrà la professoressa di Cora che è un'Italia che si occuperà di presentare la scuola. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. per dare maggiore visibilità soprattutto alle persone che è appena arrivato, magari non c'è ancora qualcosa di talent, io devo dire che sono abbastanza nuova per la scuola, l'anno scorsa la prima volta che ho visto in talent, è stata veramente un'esperienza positiva, non pensavo di avere dei studenti così grandi, ecco. Vi spieghiamo, purtroppo, che vediamo proprio la testa di voi. Ecco, io sono appena impressionata, a me adesso ho l'entrazione, perché se ne occupa, da un punto di vista tecnico, sono davvero impressionata a voi perché l'ho risultato, ha portato la vera grafica, ma la loro organizzazione è lo spettacolo, sembrava veramente lo spettacolo organizzato ad alto livello, un talento di scuola. Questo è quanto, e... sono pronta per la tempura, io ho preso il miglietto, ho preso il miglietto perché non è rito, perché è stato semplice in alto livello. ... 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 ha la classe che ha fatto la foto sicuristosa migliore, qui con la cartegnata, e l'altro quello che io ci do, più temo, ha la classe di ragazza, che ha realizzato il lodo delle febbre di questa settimana. Questa è stata un'iniziativa per superiore, la partecipazione dei miei figli, tipo Gianni, che siccome è stata una situazione molto accettita, prenderà ancora una giornata della esperanza, se non so 10, perché se ne possa essere 10, se non so 10, se non so 10, se non ci sono 10, se non so 10. Allora, faccio la parola ai miei figli che presentano i miei figli di loro, e allora vi ringrazio per la parola. Ciao, ciao, ciao. Sono Valentina Castausa, la più rappresentante del Steve, mi sono unico 4 e faccio parte per la nostra clientela, ancora che sono stati, sono stato selezionato da Raritan e, per la nuova edizione, 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 dove ero in epoca per sé, ci veniamo scorsi e un po' con Giulio e Filippo e San Antonio, e che forse non so questo, fa parte di mia voglia per questa nuova edizione. A io si prenderemo, a io si parla, che hanno sostenuto, perché quest'anno, quest'anno si prendono la ricevizione, e sono, non soltanto le scelte a casa, perché lo sono senza selezionare, questi sono siti di prende, puntano siccome, per esempio, faccio il nome di la pizza, la pizza da Pizzarabba, per esempio, le pizza di Marcello, grazie a tutti i consigli di Natale, se non arriva, oltre, risultate, in ordine a passaggio, di antena duro, poi passiamo, però, invece, a parlare avanti io, che è diretrice di Espa, che quest'anno ci aiuterà, non trasferterà il nostro ragazzo, insomma, faccio parlare alla diretrice. Grazie, grazie, grazie a tutti, stavamo benvenuti benissima, per dare spazio a cose più importanti, noi siamo, per il terzo anno che siamo sponsor dell'EO, che abbiamo iniziato casualmente, da parte, con tutto il prodotto economico, che è proprio finalizzato a valorizzare degli anni, perché noi vediamo come ce ne ha fondamentali tutti i talenti dei uomini, e quindi ci fa veramente molto piacere quest'anno essere nuovamente a decine visione, che credo assumeranno un valore più importante, e anche che sia il inizio di una nuova decade, perché questo talent è veramente, veramente molto bello, fatto benissimo, e un complimento con chi lo ha inventato, per cui lo ha portato avanti degli anni. La parte nostra è proprio quella che ci ha di più, è una parte delle ragazze, e dei ragazzi che si frequentano la nostra scuola, una scuola un po' come la vostra, ma rivolta a quelle professioni, e saranno le nostre ragazze e i nostri ragazzi che rinforteranno e che vineranno sia i presentatori che anche i partecipanti al concorrente. Questa è una parte che piace molto, perché va ad avvicinare due monti con la formazione della scuola che a volte siamo distanti nella mente delle persone che non se ne è, sono accaduto in una società, ed è stato sempre un'esperienza bellissima questa forzata di interno di collaborazione. Vi ringrazio ancora per aver invitato e passo la parola a sottotitoli, perché non mi sono scontato. Terza presentante di istituto, bene, grazie a tutti e buona domanda. Sottotitoli Grazie. 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 Vi do a garantire qualche numero di football, cioè diciamo, di questa pressione di Contina Domenico. Poi abbiamo la partecipazione, ma un buon artiste in gara, di due band, cinque cantanti, sei gruppi in danza e buone gara a tre classi. E poi abbiamo, insomma, un utrito parterre di ospiti, come ci avrebbe citato anche sulle nostre canali social. Quest'anno avremo ospiti in cittadina soltale, intanto l'opera, quello che si rincorna la televisione, del due centenze, che sono molto raggiunto. Insomma, c'è un'unica data, questa, 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 avremo poi, essendo l'edizione dei dieci anni, essendo l'edizione più importante, insomma, di questo, questo corso, avremo poi, due nostri ospiti che torneranno in un'ordine della passata. Nel senso che, ad esempio, avremo un IFL, che sono due producer, che, insomma, ci fanno ascoltare dentro, solamente, per una, per un'altra, per un'altra, per un'altra, per un'altra, per un'altra, per un'altra, per un'altra. E avremo gli Stratas, per chi conosce un'altra, per un'altra, per un'altra edizione, di sono tutti i risultati, eh, e poi avremo altri ospiti, perché, per qualche, qualche capuccia dentro la panna, ma, veramente, mi causa vedere una risposta, mi sorprende, chiaramente. Come si è già accettato, avremmo il premio della critica, che è il premio della giuria, segnato dall'istituzione anche solitata, che è il premio del clou. Peraltro, in giuria, insomma, abbiamo un grosso copy, che ancora non lo faremo perché stiamo ascoltando la conoscenza tra i due denti delle nostre evidenze, però vi possiamo dare un premio per i fatti, per presenti. Quindi sarete dedicati da persone competenti in questa ragazza che vi do salutare, che appunto ha stato proprio assegnato il premio della critica all'istituzione che hanno avuto più, anche fuori gara, della critica all'istituzione della critica all'istituzione. Avrete un premio del clou che verrà dato dall'istituzione in gara che ha risciuto più volte. Che ha risciuto più volte? Dove? Grazie alla partecipazione... ... ... ... ... ... ... ... ma ci passano i votanti, nel senso che vogliono prendere il nuovo telefono e votare per l'esibizione che è stato di più, per esempio, quello che è reala, che è stato un'occasione di votanza. Quindi questa è una, insomma, che mi ricordo da qualche anno che risuota sempre un grande successo. Stavo deciso di ripostruire con questo strutture, che la vostra, insomma, dare un'ottima voce anche delle nostre conferenze. Quindi si diventa particolarmente importante che fanno gli artisti portare il maggior numero di persone a parte di uno del pubblico, per realtà, perché avere un parterre più utile per il pubblico che significa anche quello del pubblico. I luoghi per essere presenti sono tanti, abbiamo anche le social, dove ci sono tutte le altre informazioni, insomma, per sapere come essere presenti. e quindi il modulo che non può presentare la casa c'è, cioè, per esempio, è una cosa che ci sono faccia a specchi, se sono parte che sono le interviste, che sono un'azionista, che non è 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 un'azionista, insomma, in modo di prestare in contatto ci sono e solo da altri. Per quanto riguarda la partecipazione, quindi, non mi parla, che sono già stassi presentati, come le persone hanno fatto un'azionista, parlavamo anche io, che si tratta, pur peraltro, per la gestione delle elezioni, al segretario produttore della facilità di Genova, e dalla cosa in contatto, perché un conto è che ci fa tutta la sua proprietà, che ci fa tutta la tua proprietà.. iscrivono da tua proprietà, che non è un'azionista, ma qui si arriva un'azionista, ma è un'azionista, ma che si arriva pretendendo che è un'azionista, ma non è un'azionista, ma è un'azionista che ci è in contatto, che deve questoare fare un'azionista che costranno, per il vostro lavoro, nel vostro lavoro che sta tutta la proposta, In conto è avere decima, in conto è avere la politica decima scelta della società. C'è ne ha la considerazione che conosce l'antigianato, la proprietà, l'impresa, la società. Avere un quadro, una società significa avere un'attenzione particolare a parte dell'aziente, avere le presenze importanti, se dobbiamo, che sia un problema salutato, e la possibilità da dare di riori a dire, perché bisogna connessor di farmi, in conto è anche il potere, anche il potere imbropa di inoltre, perché quello di vado a prenavi, appena riassionate, quando vado a riscaldare, per tutta la impresa, per chi sta facendo un ruolo di lavoro, e lo vado a pagare, perché è una persona che va all'interno e si può essere riuscita al Consiglio. E' uscito proprio con un capcine sedere dalla sua scuola, ma non era tutto un po' più sbagliato. Quindi, mi invito è proprio di provare a considerare di fare l'impresa. Perché non è possibile le organizzazioni che ci sono, e poi non è questa la sede che parlava, insomma, se voglio provare a cercare, se la vostra intenzione è quella di non andare a fare l'impresa, e non essere conoscenze che mi piace, considerate le forti di fare l'impresa. Vedete anche per l'impresa di tutti gli stessi una cosa importante, una cosa che mi gratifica in questo Paese, che è un po' complicato di fare l'impresa, mettiamola così però, bene, la soddisfazione è, potete dire, io faccio compresa nel mio Paese, io portavo le tasse a una volta, non c'è bisogno necessariamente di finire a Londra a fare l'impresa, si può anche fare l'impresa qua. perché non è possibile, è il futuro, però non c'è bisogno di uscire, perché camminando a quest'alba io faccio pesa qua. Mentre i miei compagni sono a fare l'impresa, sono ancora lavati i piatti, perché lavano i piatti. Io faccio pesa qua, io faccio comunicazioni, io faccio lenti, un po' di un video e il rischio della prevenzione da parte del cinema, invece se è il rimasso, non c'è un soggetto da sì, tardo, tornando alla pagina di tutti, poi non è possibile, poi ciò, dopo ciò, dopo le aggiori, dopo le aggiori, ciò, dopo le raggiunto, e ciò, dopo le raggiunto, quindi, insomma, le tue, vittime di farci la pressione. Quindi, c'è qualcuno che deve entrare? D'altra partitura, se c'è qualcuno che deve entrare, se c'è qualcosa che deve entrare, non so. Per quanto riguarda appunto il discorso di parma, abbiamo, ad esempio, il pizzo di Marcello, che ci ha riservato una proporzione interessante, questa è la nostra faccia anche con il live, con il tagliere lo sconto del 20% sulla scelta della nuova europea. È una piccola cosa, però, insomma, si sa che magari dopo lo spettacolo non possiamo piacere soddisfare la fama che mi agredisce per quanto riguarda, si parte dal punto di vista di Ligia, questa è una grande realtà, perché anche la volontà, che è l'ingesca di giovani e completamente informata su quelli che sono giovani, perché poi non credo che la sentiamo tutti i bambini, 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 tutti i bambini. Grazie. 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 Grazie.